quindi la vogliamo provare vediamo come viene così ok lei è bravo io cerco di starle appresso va bene bene andiamo scabricciate l'amico se non vuoi in galera rintas tu mese come te la già dì che non è cosa quella non è per te, quella non è per te che appena dì che è bella e chiù è una cosa si può vedere che c'è anche una scusa lascia la senta a me che non è cosa tu babbio non sei troppo onesta che l'è nato per l'omanzista a lontano da questa maestra che ti perde figli e mamma non ho visto che da ora passi ti c'è anche un cento di mosse ti fa credere un po' di lascia ti fa perdere la libertà tutti i mattina mamma rindacchiesse pregabate a madonna e nur ribosse non ho visto che c'è anche una scusa se non tu va in galera rintas tu mese corra da vecchia va cerca la scusa tu babbio non sei troppo onesta che l'è nato per l'omanzista a lontano da questa maestra che ti perde figli e mamma e non ho visto che da ora passi ti c'è anche un cento di mosse ti fa credere un po' di lascia ti fa perdere la libertà e tu babbio non sei troppo onesta si troppo onesta che l'è nata per l'omanzista all'ontano da questa maestra che ti perde figli e mamma e non ho visto che ti arrabassi, ti c'è anche cucina di vostra ti fa credere che è un po' di lascia, ti fa perdere la libertà ci capriccia di el mie batte in la gas se non vuoi in galera rinta su mezza grazie a tutti